30, tornante destro per accenno sinistro, 50 a vista alle zebre, tornante sinistro per tornante destro no, 20 destra 3, scivola molto per al giallo, sinistra 3, 50 alla zebra, tornante sinistro, scivola per tornante destro, 20 destra 3, in subito sinistra 3, vai 100 alle gomme rosse, destra 4, credici, 50 a vista all'ampeggiante 10, per attenzione sinistra 3 per destra 3, occhio cemento interno 50 ai pannelli sinistra 4, dopo il cartello sinistra 4, meno meno per destra 3, gira su ponte, 2 tempi, scivola, 30 al blu, destra 4, in sinistra 3, per ancora sinistra 3, in destra 3, no taglia accenno sinistro, 30 a sinistra, il blu, tornante sinistro chiude in destra 4, vai in ancora destra 4, vai per sinistra 3, in destra 4, 20 al doppio pericolo, sinistra 3, per destra 3, in sinistra 3, salta per destra 3, al blu diventa tornante destro per accenno sinistro, vai per destra 3, vai in sinistra 3, più 20 destra 3, in accenno sinistro, 20 vai, credici accenno destro, pieno, vai 20, tornante sinistro, 50 a vista meno 2 al pericolo, destra 4, occhio interno 30 sinistra 4, più in destra 3 per sinistra 3, 30 alla zebra, tornante destro 20 sinistra 3, meno in destra 4, 30 destra 4, in accenno sinistro, vai pieno, 20 alla zebra, tornante sinistro in destra 5, più vai sinistra 4, più per destra 4, in al bianco nero destra 3, in sinistra 2, chiude 30 a roveso stai a sinistra per tornante destro per accenno sinistro 30, vai in rosso destra 3 chiude 2 alle zebra su ponte 30 sinistra 3, più lunga vai 30 destri a fine muro tornante sinistro 30 a roveso destra 3 30 accenno sinistro in sinistra 3 meno o meno alle zebra per destra 4 per sinistra 3 20 a roveso destra 3 diventa tornante destro chiuso per sinistra 4 più lunga gira vai credici in destra 3 a roveso in sinistra 3 per destra 3 meno alle zebra in destra più lunga credici in retornante sinistro stretto 20 meno 2 sempre sinistra 4 lunga in sinistra 3 la bandella blu per destra 3 in sinistra 3 occhio interno 20 al cemento destra 3 lunga due tempi in destra 3 in destra 3 per sinistra 2 meno ai pericoli per destra 3 in sinistra 4 vai 30 alla zebra tornante destro chiude sale occhio interno 30 destra 4 in sinistra 2 per destra 3 vai per ai pericoli sinistra 3 meno lunga gira 30 alla zebra tornante sinistro no 30 stai a sinistra tornante destro apre giù tutto per sinistra 4 per destra 4 vai 20 al cemento buco accenno destro in subito tornante destro chiude sale occhio interno 20 a secondo pericolo sinistra 3 30 sinistra 2 meno meno lunga vai sfiorare l'interno 30 al bianco blu lascia la scorrere al bianco blu vai destra 4 in sinistra 5 più 30 destra 4 nella madonna sinistra 4 forse usi e sarà viscido per destra 3 chiude 13 qua adesso per la sinistra 4 larga vai dai 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 lascia la correre destra 3 più in sinistra 3 più vai per destra 3 meno allarga tutto in destra 3 meno al cemento 30 sinistra 4 per destra 3 più dai credici dai 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 ai cartelli sinistra 3 chiude 20 buono